Da metà giugno tornano sul lungomare di Martinsicuro e Villarosa i parcheggi a pagamento. Sostanzialmente non ci sono grandi novità, però c'è una fase, un'estensione per quanto riguarda la Riviera Nord. Sì, quest'anno abbiamo deciso di lasciare tutto inalterato, di non gravare sulle tasche degli utilizzatori dei parcheggi, quindi le tariffe rimarranno le stesse, però abbiamo un po' ampliato il numero dei parcheggi a pagamento proprio nell'ottica di quelle opere di trasformazione che stiamo facendo sul lungomare. Insomma, non è un mistero che dopo l'estate partirà il nuovo cantiere per la realizzazione di due lotti di lungomare, Martinsicuro e Villarosa, per circa due chilometri. L'ampliamento riguarda, come dicevamo, la zona nord, la rotonda Las Palmas fino alla zona portuale. Sì, in pratica segue quello che stiamo dicendo, il lungomare viene completato, dove i parcheggi a pagamento diventano come in tutte le città rivierasche durante il periodo estivo su tutto il lungomare e questo è il passo che stiamo facendo anche perché l'anno prossimo rifaremo anche quel tratto di lungomare di Martinsicuro. Restano inalterate le tariffe e anche tutte le varie agevolazioni previste per quanto riguarda anche gli abbonamenti? Sì, da questo punto di vista massima disponibilità, quindi abbiamo lasciato tutto inalterato proprio per lasciare il massimo della competitività per tutti coloro che decideranno di venire a Martinsicuro per le vacanze ritrovando i stessi prezzi a cui erano abituati e le stesse tariffe degli anni precedenti. Avete fatto anche ovviamente una stima in sede di bilancio di previsione su quello che potrà essere poi il gettito? Sì, pensiamo di incassare una cifra superiore di circa 10.000 euro, non è una cifra importante, ma questo è un primo passo che abbiamo voluto compiere proprio per andare ad adeguare la situazione per quello che sarà il nuovo lungomare che cominceremo ad edificare e a realizzare dopo l'estate.